Ciao a tutti ragazzi, qua FedeTutorial e sono tornato con questo nuovo video. Come vedete oggi sono qui con un tutorial completamente aggiornato su come riuscire a registrare il vostro iPhone, iPad o iPod Touch senza il bisogno di un jailbreak e soprattutto di un computer. Da poco infatti è stata aggiornata un'applicazione che esiste già da parecchio tempo però non funzionava appunto più. In questi giorni gli sviluppatori sono riusciti ad aggiornare il certificato e quindi sono qui per farvi vedere come installarla. Ci tengo innanzitutto a dire che è compatibile con tutte le versioni di iOS 9 e molto probabilmente anche iOS 10, purtroppo non ho potuto testarla ma al 99% dovrebbe funzionare senza nessun problema anche lì. Avevo già fatto un vecchio video su come riuscire a registrare senza computer e senza jailbreak grazie ad Airshow ma questa applicazione è davvero molto meglio perché ci permetterà di registrare 1080p a 60fps e potremmo addirittura scegliere se registrare l'audio del microfono oppure solo l'audio del dispositivo. Ci saranno davvero tantissime opzioni. Andiamo subito a vedere come fare. Innanzitutto io sto utilizzando il mio iPod Touch di quinta generazione che come potete vedere dalle mie impostazioni generali info ha installato iOS 9.3.2. Non è l'ultima versione ma è la stessa identica cosa, purtroppo lo devo ancora aggiornare. Poi come vedete non ho SIDA installato e comunque sia non c'è nessuna traccia del jailbreak. Innanzitutto vi basterà andare nel link che vi metterò qui sotto nella descrizione direttamente con Safari, mi raccomando non funziona con altri browser quindi andateci direttamente da Safari. Ci sarà come vedete questa pagina di IMU Hub, basterà cliccare su questo bottone verde dove c'è scritto install. Si aprirà automaticamente un profilo, clicchiamo in alto a destra su installa. Inseriamo il nostro codice, se l'avremmo settato nel nostro dispositivo. Clicchiamo su seguente in alto a destra. Clicchiamo poi di nuovo su installa, ancora su questo pop-up clicchiamo sempre installa e una volta completato il tutto clicchiamo su fine. Ora possiamo anche chiudere questa pagina web perché non ci serve più. Torniamo nella nostra home e come potete vedere troveremo l'applicazione IMU Hub che si è appena installata. Ora andiamo ad aprirla e spostiamoci poi successivamente nel secondo tab, quindi questo qui con il simbolo dell'App Store. Ora qui troveremo molte applicazioni che possiamo installare, quella che interessa a noi è video. Proprio questa qui, con questa icona gialla, andiamo a cliccarci sopra. Si aprirà automaticamente una pagina web, come potete vedere. Attendiamo 5 secondi su questo banner in verde e poi clicchiamo su skip this add. Ora si aprirà automaticamente un'altra pagina, sempre di IMU Hub, e clicchiamo su questo grande bottone nero dove c'è scritto install video screen recorder. Ora ci comparirà questo pop-up, clicchiamo su installa. Torniamo nella nostra home e qui troveremo la nostra applicazione video che tra poco, come vedete, eccola qui, si sta installando. In questo caso, come avete visto, si è installata senza nessun problema dato che il certificato è stato aggiornato. In futuro è possibile che Apple decida di bloccare il certificato dell'applicazione e quindi vi darà un errore durante l'installazione. Se è così, mi dispiace, ma non possiamo far nulla, bisognerà aspettare che si aggiorni automaticamente di nuovo il certificato. Seguitemi nel mio canale Telegram che trovate qui sotto in descrizione dove vi tengo aggiornati sull'applicazione e sullo stato del certificato in modo da sapere quando l'applicazione tornerà a funzionare, nel caso appunto venisse bloccata. In questo caso comunque si è installata correttamente, quindi andiamo ad aprirla. Ci darà questo errore, per risolverlo semplicemente torniamo nelle nostre impostazioni. Andiamo sempre su Generali, scorriamo in basso fino a trovare Profilo o Gestione dispositivo, dipende dalla versione del vostro iOS. Clicchiamo poi sul profilo della nostra applicazione, clicchiamo su Autorizza e poi di nuovo su Autorizza. Una volta fatto ciò saremo in grado di lanciare la nostra applicazione senza nessun problema. Ecco qui la schermata principale di Video Screen Recorder. Come vedete è organizzata davvero molto bene. Qui infatti possiamo scegliere cosa registrare semplicemente abilitando un tick. Se volete registrare ad esempio solamente l'audio del dispositivo, basterà cliccare su questa spunta, dove c'è scritto Device Audio. Se volete ad esempio anche il microfono del vostro iPod, spuntate anche questa casella. Ed è davvero molto semplice settare la vostra registrazione. In questo caso ad esempio voglio solamente registrare l'audio del dispositivo, e qui invece possiamo scegliere la sorgente video. Possiamo scegliere tra lo schermo, che è quello che mi interessa in questo caso, e ci sarà anche l'opzione di registrare tramite la fotocamera frontale del dispositivo, in modo da fare una sorta di webcam. In basso possiamo trovare altre opzioni, per esempio settare la qualità del video fino ad un massimo di 1080p. Qui ci saranno gli FPS, ad esempio io vado a selezionare il massimo, 60, e questa ultima spunta ci permetterà di dividere le tracce tra di loro. Questo è molto utile se andrete successivamente ad editare il video in un altro programma, perché dividerà la traccia video dalla traccia audio, e sarà più facile per voi editarlo in un software differente. Ovviamente potete anche decidere di registrare solamente l'audio, per fare una sorta di commentary, comunque ci sono davvero tantissime opzioni. In questo caso io le vado a settare così, tanto è solamente una prova. Una volta scelto il tutto, clicchiamo in alto a destra su Start. Ora quando ci compare questa schermata, apriamo il Control Center, e clicchiamo su AirPlay. Ora qui come vedete ci comparirà automaticamente video iPod di FedeTutorial, in questo caso che è il mio iPod. Clicchiamo su Fine e come vedete ci sarà un piccolo suono e il nostro dispositivo starà registrando. Ora tutto quello che farò sarà registrato dal programma. Come vedete non lagga minimamente, possiamo fare tutto tranquillamente dal dispositivo. Per terminare la registrazione basterà riaprire l'app e cliccare su Done, qui in basso. Ora vi chiede di accedere alle vostre foto, cliccate su OK, perché gli serve per salvare il video direttamente nel vostro rollino fotografico. Nel caso aveste registrato solamente l'audio, troverete le registrazioni nel terzo simbolo chiamato Files. In questo caso io ho registrato un video completo, quindi non trovo nulla. I video li troverete, come ho già detto, direttamente nella vostra applicazione foto. Eccolo qui, infatti mi ha subito salvato il video. Possiamo fare play e funzionerà come vedete perfettamente. Non c'è nessun tipo di lag, come potete vedere. I frame sono davvero altissimi. Tutto si vede in una qualità fantastica, praticamente il full HD. Ed ovviamente, dato che l'abbiamo salvato nel rollino foto, possiamo poi trasferirlo sul computer, ad esempio, per poi farci un successivo editing. Quindi ragazzi, come avete visto, l'applicazione funziona perfettamente. Come ho già detto è molto meglio da Airshow, l'applicazione che vi avevo fatto vedere nel mio scorso video. Dato che qui possiamo selezionare in un modo molto semplice tutte le sorgenti del nostro video. Come ho già detto, al momento funziona, ma probabilmente verrà bloccata da Apple in futuro. Seguitemi nel canale Telegram, che trovate qui sotto in descrizione, per rimanere sempre aggiornati sullo stato di questa applicazione. E detto questo ragazzi, il tutorial per oggi è finito. Spero che vi sia stato utile. Se così vi invito, come sempre, a lasciare un bel mi piace e ad iscrivervi anche al mio canale. Lasciate un bel mi piace anche alla mia pagina Facebook e al mio canale Telegram. Tutti i link li trovate qui sotto nella descrizione. Commentate se avete qualsiasi tipo di problema o per qualsiasi cosa, che cercherò di rispondervi il prima possibile. Ed infine, condividete questo video dovunque, con i vostri amici, per fargli scoprire questo nuovo metodo di registrare il loro dispositivo, ma soprattutto per aiutarmi a farmi crescere. E da FedeTutorial è tutto, noi ci becchiamo in un prossimo video. Ciao raga!